Senti, ragazzi, vi vedete tutti quanti insieme lì? Sì, tutti insieme. Ragazzi qua, per favore. Prima, seconda, un mascotto vicino. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Volete venire a fare la foto, su? Claudio, Claudio, Claudio. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Veniva. Vieni qua. facciamo le cose scusami Daniel quando la signora Patrizia mi licenza e la signora Veronesi mi ricordo quello che mi ha detto però prima bisogna che mi licenzi non sto tanto bene con loro Veronesi sono una famiglia mi trattavo in famiglia non sto anche per me non sto tanto che non sto molto acquisto scusami E io mi sono perso una concorrente Dai mamma Miri anche devi fare una foto di gruppo E poi mi devi filmare per fare prima volta via Altrimenti la tua vittoria non vale niente Della mattina siete mie ospiti in spiaggia Senza problemi Tutte le mamme che vogliono venire in spiaggia a 20 miglia martedì prossimo Siete mie ospiti C'è una spiaggia libera Quindi non preoccupate